Musica Amici di Misteri Channel Show, benvenuti. Come vi avevamo promesso, stasera abbiamo ospite con noi, Mauro Biglino, per la nostra intervista del Midnight Special. Ciao Mauro e grazie di averci concesso quest'intervista. E speriamo che l'intervista piaccia lo stesso pur non avendo la parte video. Ce lo so, però bisogna spiegare che nella mia situazione attuale mi è impossibile stare davanti a un monitor per via degli occhi del collo e stare davanti al monitor più di pochi minuti. E quindi ovviamente non era possibile per me fissare un monitor come avrei dovuto fare se avessimo fatto l'intervista normale come le altre volte. Bisogna aver pazienza. In questo momento bisogna adattarsi. Caro Mauro, ormai è sempre più chiaro che dalla lettura letterale della Bibbia emerge il racconto di un prolungato contatto tra gli esseri umani ed una civiltà aliena. La prima domanda che ti pongo quindi è questa. Cosa c'è di vero, secondo te, nella teoria degli antichi astronauti? C'è di vero la possibilità che sia vera. Lo so che è una risposta curiosa, strana e magari per alcuni non soddisfacente. Ma ovviamente, come dire, la prova provata, la pistola fumante, come si usa a dire normalmente, non è che ce l'abbiamo in mano. Però il discorso qual è? Che i popoli di tutti i continenti del pianeta ci raccontano di questi qui e li chiamano variamente, eccetera, ma insomma con nomi che sostanzialmente possono essere riassunti nella definizione figli delle stelle. Ora, il discorso qual è? Che siccome ce ne parlano tutti, ma veramente tutti, noi dobbiamo fare un po' come faremo in un normale tribunale. che se un giudice ascolta tre o quattro o cinque testimonianze di persone che dicono di aver viste tutte insostanzialmente la stessa cosa o di aver assistito alla stessa situazione, il giudice di fronte a queste testimonianze ovviamente le ritiene per vere, appunto perché si confermano l'una con l'altra e quindi poi giudica in funzione di questa verità, anche se non ha davanti una fotografia di quella situazione, ma ne ha dei racconti. Ecco, io ovviamente con il mio metodo, cioè del facciamo finta che gli antichi non avessero tempo da perdere nel raccontarci le cose, visto che ce l'hanno raccontato in tanti, ce l'hanno raccontato tante volte, ce l'hanno raccontato in tanti modi, e poi sappiamo che hanno pure raffigurati, eccetera, dico che è molto alta la probabilità che questo sia vero. Mauro, dai racconti biblici si evince che gli aiuti che Yahweh poteva dare agli israeliti in termini di risorse erano scarsi. E secondo te perché un essere apparentemente più avanzato tecnologicamente non era in grado di risolvere con facilità certi problemi? Perché intanto Yahweh era uno dei più piccoli, uno dei meno importanti, quindi se vogliamo inserirlo all'interno di una gerarchia, era uno di quelli che disponeva dei mezzi inferiori rispetto ad altri, ovviamente stiamo facendo delle ipotesi. E' chiaro che i suoi colleghi, i comandanti in capo molto più alti, disponevano di risorse decisamente superiori alle sue. D'altra parte basti pensare che in Euteronomio, quando gli affidano quel popolo, gli affidano Giacobbe, che si chiamerà poi Israele, e lui dice che lo trova disperso nel deserto. Quindi possiamo già di qui capire quanta relativa importanza avesse questo individuo all'interno di quella gerarchia, e pare proprio che gli abbiano detto, beh tu pigliati quelli lì e poi vediamo che cosa sai fare. Quindi la cosa non mi stupisce, ecco, semmai mi stupirei del contrario. Mauro, nella prima parte del tuo libro, in collaborazione con Enrico Baccarini, si parla di cherubini come se fossero dei droni o delle moto volanti, tipo quelle di Star Wars. Quale altro tipo di tecnologia bellica è presente nel testo biblico? E il cavod potrebbe essere inteso come la nave madre? Dunque, se io dovessi distinguere e definire la nave madre, la identificherei con il ruach, più che non con il cavod. Perché il cavod era appunto il mezzo con il quale, diciamo, si muoveva e combatteva Yahweh. Quindi lo vedrei come dire uno di questi mezzi limitati, come si faceva riferimento prima. I tipi, insomma, di oggetti e di macchine descritti nella Bibbia sono sostanzialmente i cherubini, il cavod, il ruach e poi viene nominato più volte, insomma, alcune volte, insomma il mercavà che sarebbe un carro che è, quindi insomma, qualcosa adibito a trasporto di uomini e merci. Se cito invece gli studi del professor Luigi Moraldi, che è considerato l'esperto degli esperti, quindi non è un biglino qualsiasi, i suoi lavori li trovate pubblicati dalla UTET, negli Apocrifi dell'Antico Testamento, sono dei volumi che consiglio di leggere perché sono molto interessanti. Lui stesso dice che nell'ambiente biblico, quindi anche partendo dai Targumim di Jonathan, eccetera, i tipi di carri volanti descritti nella Bibbia sono 23, almeno 23, cioè descritti nella Bibbia, descritti in quel mondo, compreso anche il libro etiopico di Enoch, soprattutto nella versione ebraica, sono almeno 23. Per quanto riguarda i cherubini, lui stesso, cioè sempre Luigi Moraldi, dice che quando si fermavano negli accampamenti degli Elohim cessava il vento, cioè vuol dire che quando si fermavano le eliche di questi oggetti cessava l'aria che, dice il professor Moraldi, era sempre presente negli accampamenti degli Elohim quando i cherubini erano in movimento. Insomma la cosa mi pare abbastanza curiosa, quantomeno. Che tipo di armi avevano questi mezzi? E ve ne traccia nell'Antico Testamento? Ma dunque, quello che è descritto nella Bibbia chiaramente è un'arma che colpiva e bruciava. Quindi noi potremmo definire un qualcosa tipo laser o qualcosa di simile. Tra l'altro la cosa curiosa è che quando noi leggiamo che Yahweh si adirava con qualcuno, nella Bibbia c'è scritto letteralmente che aveva il naso caldo. Ora questo fa venire in mente, se vogliamo mettere assieme le due cose, fa venire in mente un qualcosa che si scalda, cioè un qualcosa che si trova di fronte, davanti, perché per naso si intende anche proprio in senso più lato, più generico, la parte frontale. Quindi qualcosa che si trovava davanti e che si scaldava e poi colpiva. Poi c'è un'altra arma che nella Bibbia viene chiamata Zira e che viene stranamente tradotto con api o calabroni, quando ape in ebraico si dice debora, e questa arma colpiva la pelle ed è per questo che viene tradotto con api e produceva danni di varia natura fino anche alla prostrazione e alla morte. Quindi come se fosse un qualcosa, faccio un esempio tanto per capirci, delle microonde che a seconda della intensità con cui venivano emesse, poteva produrre semplici bruciature oppure bruciature talmente profonde da portare alla morte chi veniva colpito. Mauro, gli ebrei nel deserto si cibarono della famosa manna, così come riporta Esodo. E secondo l'autore Stefano Nasetti, scrittore del libro Il lato oscuro della luna, un certo George Sasson e Rodney Dale, due ricercatori, dalla traduzione di un testo ebraico noto come Abrazuta Odisha e pare anche dal Midrash Zohar, sembra che la manna fosse prodotta da uno strumento tecnologicamente avanzato e sembra che ve ne sia un accenno in Esodo 16, versetti 14 e 15. Tu cosa ci dici? Allora, che questa è sicuramente una spiegazione possibile, e dato il contesto biblico è una spiegazione accettabilissima, così come ce n'è un'altra che è di origine naturale, quella che la manna sarebbe il prodotto delle secrezioni della femmina di una cocciniglia, la quale durante la notte emette queste secrezioni, che poi solidificano, assumono proprio quell'aspetto che è descritto nella Bibbia, che poi al mattino presto deve essere raccolta perché altrimenti, come dire, se sta al sole, il sole la scioglie, oppure se la mangiano, per dire, le formiche. Però quell'altra spiegazione, quella, diciamo così, di ordine tecnologico, è assolutamente in linea e quindi è coerente con l'insieme del racconto biblico. Tra l'altro, considerando il fatto che la Bibbia dice che l'hanno mangiata per molti anni nei vari spostamenti, beh, questa, rispetto alla spiegazione naturale, la spiegazione tecnologica, spiegherebbe meglio il tutto, l'insieme del tutto e lo renderebbe più comprensibile. Mauro, rimanendo in tema di tecnologie, noi abbiamo fatto due puntate sul tema dello Shamir di Mosè. Puoi dirci qualcosa di più e se hai delle conoscenze extrabibliche su questo, su questo argomento? Ma, guarda, sullo Shamir direi che ci sono soprattutto solo conoscenze extrabibliche. Conoscenze, intendendoci però sul significato di conoscenze, nel senso che non ci sono certezze, ci sono varie ipotesi, quindi uno strumento che poteva contenere un vario tipo di produttori di energia e che viene descritto in vario modo. Certo è che appare come uno strumento dotato di poteri speciali, molto speciali, quindi poteva contenere all'interno delle pietre speciali, dei minerali speciali che potevano produrre radiazioni, eccetera, però, ripeto, qui siamo nel campo delle ipotesi, sono stati scritti molti libri, ci sono dei libri che parlano genericamente dell'esodo e che all'interno hanno capitoli dedicati allo Shamir, però si legge veramente di tutto. Quindi, siccome quando non so, intendo dire, quando non ci sono delle certezze e non mi piace viaggiare troppo di fantasia, direi che comunque era sicuramente uno strumento dagli effetti molto speciali. da che cosa fossero originati con precisione non lo so dire, ma da tutte le cose che ho letto direi che con precisione non lo sa dire nessuno. Ritornando alla teoria degli antichi astronauti, perché ad oggi non è stato rinvenuto nessuno strumento tecnologicamente avanzato? È possibile, secondo te, che la Terra forse è una sorta di colonia penale che spiegherebbe il fatto della penuria di risorse degli Elohim? Sì, allora, dunque, per quanto riguarda gli strumenti tecnologicamente inspiegabili, ci sono i cosiddetti O-Parts, cioè Out of Place Artifacts, cioè artefatti, manufatti, che sono stati trovati in luoghi e soprattutto datati in periodi nei quali non potevano assolutamente esistere. E questi sono veramente tanti. Tra l'altro per questo, per esempio, non so, c'è un libro Scoperte archeologiche non autorizzate di Marco Pizzuti, che consiglio di leggere, perché contiene appunto un elenco di queste scoperte archeologiche di cui non si parla, perché ovviamente se se ne parlasse le dovrebbero spiegare, ma per spiegarle dovrebbero introdurre ipotesi che la scienza tradizionale, la scienza ufficiale, non vuole assolutamente accettare in modo aprioristico. Siccome non le saprebbero spiegare, ovviamente non ne fanno in modo di non parlarne. C'è anche un libro di Jim Mars, che è uno dei colossi della controcultura americana, editato da Harper e Collins, che è appunto la nostra storia occulta, dove addirittura si ipotizza che in realtà le prove di tecnologia avanzata nel passato siano molte di più di quelle che noi possediamo e che siano conservate allo Smithsonian Institute negli Stati Uniti, ovviamente conservate nel senso di nascoste. Poi però ci sono le prove evidenti, le prove evidenti sono le grandi costruzioni, che insomma a partire dalle piramidi di Ghiza, ma su queste poi si potrebbe discutere per un sacco di tempo, perché c'è chi sostiene che gli egizi con i loro scalpelli di rame e i martelli di legno erano in grado di produrle, cosa che mi pare ridicola solo da pensare, ma comunque va bene, ma per esempio invece una prova che assolutamente nessuno è in grado di spiegare e di ipotizzare sono le pietre che costituiscono la base del tempio di Balbek in Libano, che nessuno le può spiegare neanche con la fantasia più sfrenata e quindi ovviamente per quelle bisogna ipotizzare necessariamente una tecnologia di tipo diverso. Per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, direi che visto che si parla di battaglie in testi antichi, di battaglie combattute nei cieli e di quelli che sono stati sconfitti e che quindi vengono considerati i cattivi, perché sappiamo che la storia la scrivono sempre i vincitori, siano stati relegati qui come in una sorta di colonia penale, in una sorta di luogo di punizione, questa è un'ipotesi assolutamente possibile ed è chiaro che se qualcuno viene relegato in punizione in un certo posto, di certo non gli si mettono a disposizione tutti gli strumenti di cui si dispone nel luogo di origine, perché insomma sarebbe una contraddizione e sarebbe ridicolo solo pensarlo, quindi in effetti questo spiegherebbe il fatto che certa tecnologia che viene per esempio descritta nella Bibbia era ovviamente una tecnologia stupefacente per quei tempi, ma non lo è più per noi, insomma io penso che se noi vedessimo un cavod non ci stupiremmo più di tanto, pensando al cavod che usava Yahweh con gli effetti che produceva, cioè quindi molto rumore eccetera, quindi fa pensare ad una tecnologia di fronte alla quale noi forse non proveremmo grandissimo stupore. Ma secondo te chi ha costruito le piramidi e le altre opere megalitiche? Una civiltà precedente, che è la stessa civiltà che ha poi fabbricato gli adamiti, è una civiltà dotata di tecnologia ovviamente di gran lunga superiore e dopodiché, qui bisogna essere molto chiari, se questa civiltà costituisce la rimanenza di una civiltà antidiluviana, quindi che è come dire che ha superato il diluvio, che è sopravvissuta il diluvio e che poi ovviamente ancora disponeva di quelle conoscenze, o se questa civiltà come dicono molti è una civiltà di quelli che vivono nella terra cava, o se come dicono altri, in base alla fisica moderna questo teoricamente è possibile, una civiltà che attraverso i wormhole, cioè attraverso delle porte spazio-temporali arrivata da un'altra parte, oppure siamo noi terrestri che siamo tornati dal futuro, cosa questa anche teoricamente possibile sotto certa fisica, io dico a me va tutto bene, l'importante, e questo è il concetto fondamentale, che si smetta di dire che gli Elohim biblici sono Dio, perché questa è l'unica cosa di cui possiamo essere certi, gli Elohim biblici non sono Dio. Il fascino di queste ricerche ovviamente ci farà proseguire nella speranza di avere un giorno, la certezza assoluta su chi fossero questi qui, certo è che erano una civiltà di gran lunga superiore a quelle con cui hanno avuto a che fare, ma che peraltro sono stati loro stessi a fabbricare, come ci raccontano i popoli, ripeto, di tutti i continenti della terra. Mauro, cosa erano in realtà le teofanie secondo te? Allora, teofanie, cioè il termine teofania è un termine che come al solito è mutuato dalla lingua greca e vuol dire apparizione del teos. Ora qui bisogna, leggendo attentamente la Bibbia, correggere tutti e due i termini. Teos è il termine col quale si indica il Dio trascendente, soprannaturale, spirituale, onnisciente, onnipotente. Un Dio che è totalmente, assolutamente, indiscutibilmente assente, tutt'altro che spirituale, tutt'altro che onnipotente, tutt'altro che onnisciente, tutt'altro che trascendente. È un individuo in carne ed ossa, che mangia, beve, si sporca, si lava, si arrabbia, è geloso, punisce, premia, ma punisce e premia in modo molto materiale, uccide, stermina, dà ordini di sterminio. Quindi è l'esatta antitesi del teos, così come ci viene detto. Per quanto riguarda la fania, cioè quindi la apparizione, in realtà tutte le volte che noi nelle traduzioni in italiano, comunque nelle cosiddette lingue volgari, che poi si è italiano, francese, tedesco, che non cambia, in ebraico c'è un verbo che è nella forma nifal, il verbo vedere, che nella forma nifal, cioè per essere semplici, nella forma riflessiva, passiva, vuol dire si fece vedere. Quindi quando noi traduciamo apparve, quando meglio, la esegesi teologica traduce con apparire, sta introducendo un concetto di ordine astratto che nella Bibbia non c'è, perché nella Bibbia c'è si fece vedere. Ora, il si fece vedere è ciò che noi diciamo ad un nostro amico, quando gli diciamo ma è un anno che non ti fai vedere, non è che noi gli diciamo è un anno che non mi appari, vero? Ecco, nella Bibbia è proprio così. Cioè, gli si fece vedere, ho in mente un passo dell'esodo quando Aronne parla al popolo e a un certo punto c'è scritto che tutto il popolo si girò, quindi si gira verso l'alto a guardare e Yahweh si fa vedere tra le nubi con il suo cavod. Ecco, io ritengo che non ci possano essere espressioni più concrete di queste, cioè per vedere Yahweh che arriva, tutto il popolo che è girato verso Aronne, che gli sta parlando, dietro e guarda verso l'alto, perché evidentemente deve aver sentito il rumore, guarda verso l'alto e vede Yahweh che si fa vedere. Ritengo che non ci sia, come dire, esempio migliore di questo per rappresentare quanto concreto sia il racconto biblico, che nulla ha a che vedere con le teofanie, così come vengono comunemente intese e comunemente presentate. Mauro, nella Bibbia i profeti hanno il privilegio o l'onere di parlare con Dio. Non noti una certa somiglianza con coloro che si definiscono contattisti? Teoricamente sì. Allora, dando per vera sia l'una che l'altra delle situazioni, la differenza in realtà non c'è, anche perché profeta non vuol dire uno che prevede il futuro, ma uno che parla per conto di, questo è il significato esatto del termine profeta, cioè uno che parla per conto di un altro, cioè il portavoce. Dopodiché, che i profeti prevedessero il futuro, non è che lo prevedevano così come intendiamo noi, quasi con questo senso magico, ma loro dicevano, guardate che Yahweh dice così, se tu popolo non fai così, Yahweh ti farà cosa? Ecco, ma questo il ti farà cosa? Non è il prevedere il futuro, è l'avvertire sulla conseguenza inevitabile che sarà determinata dal comportamento non gradito del popolo, cioè se tu fai così, Yahweh ti punirà, punto. Ma questo lo dice qualsiasi padre al suo bambino, guarda che se fai così stasera non esci, oppure stasera non ti faccio vedere i cartoni animati, ma non è che il padre prevede il futuro, sta semplicemente rappresentando la conseguenza di un comportamento. Quindi, dando per vero il discorso del contattismo, se questi individui rilasciano dei messaggi, individui intendo dire quelli che arrivano a parlare, lasciano dei messaggi ai contattati, beh i contattati parlano e diamo ovviamente conto della buona fede, ovviamente perché non possiamo fare diversamente, facendo queste ipotesi, beh loro non fanno altro che parlare per conto di, e quindi è il classico lavoro del profeta, cioè colui che parla per conto di un altro. Vorremmo entrare un po' più nel merito del Nuovo Testamento. Tu hai spesso sostenuto che Gesù sia un ibrido. Ma allora ti chiedo, perché gli Elohim, dotati di mezzi bellici super avanzati, avrebbero dovuto mandare Gesù per portare a termine la missione che si erano preposti? E qual era la loro missione? Allora, come sempre la mia chiave di lettura parte dal presupposto del facciamo finta che sia vero ciò che leggo. E anche qui, visto che già come si sa bene mi si accusa di tutto e del contrario di tutto, allora io dico, la tradizione dice che i Vangeli veri ispirati da Dio sono quei quattro, dico benissimo, allora andiamo a vedere che cosa c'è scritto in quei quattro. E leggendo ciò che c'è scritto in quei quattro e leggendo poi gli studi che vengono condotti, cito spesso il gesuita Jean Danielou, eccetera, pare di capire che Gesù sia figlio di un Gabriele. Ora, indubitabilmente il termine Gabriele indica il Gewehr di un El, cioè uno che esercita il potere per conto di un El. E il Gabriele viene nell'Antico Testamento anche qui inequivocabilmente definito Is, cioè individuo maschio. Poi il gesuita Jean Danielou dice che l'abbinamento tra Gabriele e lo Spirito Santo non è una ipotesi, ma è l'unica affermazione certa, è imposta dagli stessi testi, dice il gesuita Jean Danielou. Allora, io dico che quando i Vangeli che ci vengono definiti veri affermano che la Madonna è stata coperta dallo Spirito Santo, se prendo per vero questa certezza espressa dal gesuita Jean Danielou che, lo dico, cardinale, accademico di Francia, non è l'ultimo dei gesuiti, è uno dei più importanti, cardinale, accademico di Francia, docente di teologia, devo dire che a coprire la Madonna è stato il Gewehr di un El. Ora, questo sarebbe in linea assoluta con tutto ciò che è indicato nell'Antico Testamento quando si dice che prima o poi Yahweh dovrà mandare o avrebbe dovuto mandare un Messia, un Mashiach, che non è il Messia cristiano che si occupa di tutta l'umanità dal punto di vista spirituale, questa è un'invenzione teologica, ma è un liberatore del popolo di Israele, esclusivamente del popolo di Israele, dal gioco straniero. Quindi la sua missione sarebbe stata questa, missione che evidentemente è fallita, tant'è che, diciamo, in un qualche modo se lo sono poi portato via. Come hanno fatto, peraltro, con altri loro importanti inviati, come hanno fatto con Enoch, come hanno fatto con Elia e, se diamo credito alle parole di Giuseppe Flavio, lo hanno fatto anche con Mosè, cioè se lo sono portato via. Mauro, se Gesù aveva l'ordine di sovvertire l'ordine costituito, perché nessun coevo di Gesù parla di lui? Sì, di Gesù come persona direttamente, sì, esatto. Parlano alcuni storici romani, citano i cristiani, non come, cioè non lo danno come, tant'è che per esempio Tacito, che cita i cristiani, poi dice che sono vittime di una superstizione, quindi se sono vittime di una superstizione, è perché forse implicitamente lui stesso pensa che l'origine di quella superstizione non abbia fondamento storico, visto che sarebbe una superstizione. Mauro, in alcune tue conferenze hai detto che nel Vangelo di Pietro, Vangelo apocrifo, si può evincere che Gesù sopravvisse alla crocifissione e in altre che si sposò con la Maddalena. Puoi farci un po' di chiarezza su questo? Allora, la Maddalena era la sua compagna durante tutto il periodo della predicazione, ovviamente, quindi era la sua compagna prima di questo avvenimento. Dopodiché il Vangelo di Pietro, che è ovviamente un Vangelo che noi non dobbiamo credere vero, è uno dei cosiddetti Vangeli apocrifi, ci racconta che la notte, quando lui era nel sepolcro, una luce scese dall'alto, in questa luce scesero due individui, i quali molto concretamente aprirono la porta del sepolcro, entrarono, uscirono in tre, uno dei tre era talmente debole che in sostanza non riusciva a camminare da solo e veniva sorrendo e venne portato via. Quindi, diciamo, l'hanno salvato. Ora, che lui sia stato tirato giù vivo dalla croce è abbastanza evidente per due motivi. Uno, che quando gli hanno dato quella famosa spugna da annusare, lui invece di riprendersi un attimo, come farebbe chiunque che si trovasse sotto il naso una spugna imbevuta di aceto, lui in quel momento esala lo spirito. E quindi lì ci si può fare molto facilmente l'idea che gli abbiano fatto annusare un qualcosa che ha prodotto immediatamente una morte apparente. E dopodiché hanno fatto in modo che non gli venissero spezzate le ossa, come è stato fatto invece con gli altri due suoi colleghi zeloti che erano crocifissi ai suoi lati, perché se gli avessero spezzato le ossa in 30 secondi sarebbe morto asfissiato e quindi non ci sarebbe stata più nessuna possibilità di salvarlo. Quindi le cose non sono in contraddizione. Maddalena era la sua compagna e dopodiché lui l'hanno salvato, quindi di sicura l'hanno tirato giù vivo dalla croce. Dopodiché, ovviamente con il Vangelo di Pietro, come sempre, possiamo sempre solo fare finta che sia vero, ma è una delle tante ipotesi. In fondo la tradizione ci dice che Gesù è risorto e sarebbe passato attraverso la pietra del sepolcro, cosa peraltro non vera, perché quando la Maddalena va al sepolcro trova che la pietra è stata rotolata via, quindi è chiaro che è uscito dalla porta. Ma la tradizione ci parla di questa uscita miracolosa. Tra una uscita miracolosa e due individui che arrivano, aprono la porta e se lo tirano fuori aiutandolo a camminare, ognuno scelga quella che gli piace di più. Non sarò certo a dire io qual è quella vera, perché purtroppo non lo so. Dico purtroppo soprattutto per me, perché ovviamente ho una grandissima curiosità, ma non ho le prove né per sostenere l'una né per sostenere l'altra. Avremo un tuo lavoro incentrato sullo studio e sulla traduzione dei testi apocrifi? E se sì, ci puoi anticipare qualcosa? Ma guarda, io ho una serie di progetti. Il primo progetto è quello di rimettermi in salute, perché gli altri progetti sono talmente tali, tanti, grossi e pesanti, che devo assolutamente recuperare il mio stato da lute perfetto. Ma tra i vari progetti sono veramente a 360 gradi, perché prevederanno una squadra molto nutrita di ricercatori sia universitari che non universitari e quindi dentro ci saranno sicuramente anche quelli, perché ho già direttamente e indirettamente delle persone che già nella vita studiano quegli aspetti lì, quei testi lì e quindi questo sicuramente sarà una delle cose che svilupperemo. Mauro, la realtà che emerge dai testi apocrifi è più sconcertante del testo biblico ufficiale oppure siamo davanti a qualcosa di simile? Beh, allora diciamo che in relazione al tipo di lettura che io ricavo dal testo biblico, direi che sono più in linea con questo tipo di lettura. Poi ci sono, perché anche qui nei testi apocrifi bisogna distinguere tra i Vangeli tipo appunto il protovangelo di Giacomo piuttosto che il Vangelo di Pietro eccetera e i Vangeli quelli definiti gnostici, perché questi rappresentano ancora un altro aspetto e sono frutto del pensiero greco, cioè sono fortissimamente condizionati dal pensiero greco e quindi insomma il tipo di studio che va condotto deve tenere conto di questi aspetti cioè non si può fare di tutta l'erba un fascio e dire che sono tutti la stessa cosa perché dobbiamo tenere presente che anche questi Vangeli apocrifi come i cosiddetti Vangeli canonici in questo non c'è nessuna differenza, facevano capo a vari gruppi ciascuno dei quali sosteneva di possedere la verità e ognuno quindi aveva un suo Vangelo e c'era chi diceva noi possediamo la verità perché Gesù la verità l'ha detta a Filippo e noi seguiamo lui oppure la verità l'ha detta a Tommaso, oppure la verità l'ha detta a Giuda, oppure la verità l'ha detta alla Maddalena e quindi erano gruppi incontrati gli uni con gli altri quindi bisogna prendere tutto ovviamente così come i Vangeli canonici ovviamente col beneficio di inventario perché certezze non ne possiamo avere perché ripeto ciascuno di questi scritti era espressione di un gruppo e soprattutto alle origini del cristianesimo almeno i cosiddetti cristianesimi predicati erano in lotta tra di loro come sappiamo bene, fino a quando col concilio di Nicea e poi con l'editto di Teodosio si è fatto in modo che rimanesse un unico credo, diciamo così che è quello a cui tutti si dovevano adeguare e tutti gli altri dovevano essere dichiarati eretici ed eliminati e quindi noi ci troviamo con questo che è stato il credo vincente che è stato imposto poi come sappiamo bene anche con la forza, con la violenza anche con la violenza feroce perché ovviamente c'erano altri che avevano un sacco di cose da dire che erano altrettanto valide, anzi secondo me erano più valide di quelle che ci sono state imposte perché quelle che ci sono state imposte sono veramente frutto di un'elaborazione fatta a tavolino senza tener conto di tutta una serie di elementi concreti e quindi ripeto però che questo studio deve tener conto di questa molteplicità di pensieri e molteplicità di radici ripeto, da un lato c'era la radice di carattere più direttamente giudaico che erano i diretti seguaci di Gesù che tant'è che ce l'avevano con Paolo perché Paolo sapevano che si stava inventando tutto poi ci sono i Vangeli Gnostici che sono veramente frutto del pensiero greco insomma quindi voglio dire le origini del cristianesimo sono estremamente composite contrariamente a quello che ci è stato raccontato e quindi di questa molteplicità di pensieri bisogna tenere conto Mauro, nel Nuovo Testamento si fa riferimento ai fratelli e alle sorelle di Gesù ma la teologia ci dice che erano cugini però secondo me non credo si parlasse di cugini perché altrimenti il senso delle parole di Gesù avrebbe perso di significato allora ti chiedo che peso hanno visto che alcuni Vangeli apocrifi sono scritti proprio da questi fratelli di Gesù quale valore hanno questi Vangeli? sì, allora i fratelli erano fratelli veri nel senso che in greco c'è il termine del fos che significa fratello direi in modo inequivocabile altra riprova è il fatto che quando Gesù diciamo se ne va, diciamo così senza entrare nel merito del modo in cui se ne è andato quando Gesù se ne va a prendere il suo posto al comando del gruppo c'è il suo fratello Giacomo come era ovviamente nella tradizione non soltanto ebraica insomma che quando se ne va uno a prendere il suo posto è uno della famiglia non avendo lui figli diretti prende il suo posto il suo fratello Giacomo proprio per questi motivi insomma per motivi di diciamo così ereditarietà del posto di potere quindi che fossero fratelli direi che non ci sono assolutamente dubbi direi addirittura che con ogni probabilità aveva anche un gemello che è Tommaso detto Dimo il gemello che è citato da Giovanni il quale appunto quando lo cita dice semplicemente il gemello senza dire di chi fosse il gemello ora se fosse stato il gemello di uno degli altri ovviamente lo avrebbe identificato nel momento in cui dice il gemello così Tukur vuol dire che chiunque sapeva chiunque pensava che era il gemello del capo perché altrimenti ci sarebbe stata la necessità di identificarlo e questa storia dei gemelli tra l'altro è una storia molto curiosa perché nei popoli antichi in genere i parti gemellari erano considerati parti di origine fra virgolette divina cioè come figli derivanti dall'intervento diretto di quelli là un altro parto gemellare l'hanno prodotto quando hanno fatto Giacobbe e Esau che tanto per cambiare nascono dopo che gli Elohim intervengono sulla loro madre che risultava sterile quindi così come nel caso di Gesù teoricamente almeno nell'ipotesi che io rappresento sarebbe stato sarebbe intervenuto questo Gabriele cioè questo Geverdi se anche lì ci fosse per così dire scappato il parto gemellare non mi stupirei perché sarebbe uno dei tanti parti gemellari che ripeto nell'antichità erano normalmente considerati come di origine fra virgolette divina cioè come un prodotto di quelli lì parlerei di fratelli nel senso proprio carnale del termine Mauro allora ti chiedo la necessità di far nascere coppie di gemelli era legata al fatto che così si potesse garantire che almeno uno dei due gemelli diciamo ibridi sopravvivesse vista la scarsa profilassi dell'epoca oppure secondo te ci sono altri motivi cosa pensi di questa ipotesi? Un'ipotesi l'altra ipotesi è che ancora oggi sappiamo quando si procede con la cosiddetta procreazione assistita sai che spesso arrivano i parti gemellari addirittura plurigemellari quindi questa sarebbe un'altra considerazione che indirettamente fa pensare a quel tipo di interventi proprio come interventi di procreazione assistita quello che io dico sempre in effetti scusami se ti ho interrotto quello che dico sempre in effetti è che è fondamentale avere la mente aperta altrimenti si corre il rischio di abbandonare un dogmatismo per accettarne subito un altro e quindi bisogna avere la mente assolutamente aperta a tutte le possibili soluzioni soprattutto se queste soluzioni hanno un possibile senso ora il fatto che abbiano senso non vuol dire che è provato che siano vere perché ripeto il giorno che si avrà la prova beh cesserà ogni discussione finché non abbiamo la prova teniamo però la mente aperta perché avendo la mente aperta potremmo trovarci di fronte a delle sorprese inattese Mauro in alcune conferenze hai detto che i Elohim sono ancora tra noi citando l'ex ministro della difesa canadese tu in parte hai avallato questa sua affermazione perché? più che avallare per avallarla direi oppure diciamo sì in parte l'ho avallata allora diciamo così la ritengo possibile cioè non mi stupirei io ho detto più volte che il giorno che si scoprirà e per scoprirà intendo dire si avrà la prova certa concreta che questi sono tra di noi sono qui e che governano tutto io non me ne stupirò quindi il fatto che questo ministro canadese abbia detto che un paio di loro siedono nel congresso americano è una cosa che come dire non mi stupisce assolutamente perché se venisse provato venisse accertato venisse acclarato io direi bene la cosa non mi stupisce nel modo più assoluto perché se mi guardo attorno vedo che il sistema di governo e soprattutto il sistema finanziario è quello che è chiaramente descritto nella Bibbia quello che Yahweh ha descritto i suoi nella Bibbia e allora ti chiedo qual è questo sistema finanziario che propone la Bibbia è che il sistema deve essere basato sul debito credito perché dice Yahweh chi presta denaro è padrone chi riceve denaro in prestito è schiavo ed è esattamente il sistema finanziario che governa l'intero pianeta Mauro in alcune tue conferenze hai affermato che gli autori di Superman sono ebrei secondo te hanno raccontato dell'esilio di un alieno sul nostro pianeta perché volevano raccontarci qualcosa che è scritto nella Bibbia oppure no? sì nel senso che da decenni attraverso la cosiddetta fantascienza compresa direi adesso ultimamente soprattutto la filmografia si stanno mettendo sotto gli occhi tutto e io non so se lo stanno facendo per prepararci ad un qualcosa che deve avvenire e quindi per fare in modo che l'umanità come dire comincia a interiorizzare certi concetti ma tu pensa che Superman che è chiamato Cal El che così come viene letto e scritto Cal El significa El rapido e leggero El sarebbe il singolare di Elohim assieme all'altro termine Eloha è un individuo che è ovviamente superiore all'umanità quindi ha dei poteri superiori però è mortale esattamente come la Bibbia dice degli Elohim suo padre si chiama Jorel che significa El di luce o luce di El e proviene da un pianeta che si chiama Krypton e Krypton in greco significa nascosto non conosciuto cioè io direi che più chiaro di così più chiari di così non si può essere e dopo di che c'è tutta la filmografia che noi chiamiamo tradizionalmente culturalmente fantascienza ma che in realtà ci sta raccontando le stesse cose ho visto ultimamente lo spezzone di un filmato di uno dei primissimi filmati di Star Trek che sta girando in rete dove questi parlano delle divinità dei greci come di individui arrivati da altri pianeti che è esattamente ciò che ho fatto io nei primi due libri mondadori dove ho fatto l'analisi parallela tra la Bibbia e i testi omerici e poi ho inserito anche nel secondo libro ho inserito anche altri autori oltre a Omero ho inserito Strabone Eliodoro eccetera 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 ma voglio dire com'è che 40 anni fa parlavano già degli dei greci come di individui provenienti da altri pianeti è perché tutta una serie di produzioni televisive o cinematografiche sono scritte da sceneggiatori che hanno accesso a delle fonti e le fonti sono quelli che sanno e che quindi attraverso la fantascienza rilasciano queste informazioni A questo punto ti faccio un'ulteriore domanda i mormoni sostengono che Dio abiti su una stella chiamata Kolob potrebbero avere ragione? Beh sicuramente è una delle ipotesi possibili io purtroppo non so da dove arrivino non so dove abitino eccetera però allora se si fa finta che provengano da un'altra parte beh ciascuna di queste parti è come dire un posto ipotizzabile ora con il dottor Massimo Barbetta stiamo conducendo degli studi che riguardano sia la Bibbia sia gli scritti rabbinici sia gli scritti cabalistici nei quali si parla di porte nel cielo da cui questi arriverebbero queste porte nel cielo sono citate anche nei testi induisti quindi ancora una volta ce ne parlano testi diversi testi appartenenti a culture diverse e quindi direi che ancora una volta io faccio finta che siano vere e le ritengo come testimonianze lasciate per iscritto da gente che quando scriveva non è che avesse la stessa facilità che abbiamo noi che ci mettiamo di fronte al computer scriviamo e poi quando non ci piace cancelliamo e riscriviamo scrivere era impegnativo e costoso quindi quando scrivevano mettevano per iscritto cose che dovevano essere tramandate dovevano rimanere nella memoria e non dovevano andare perdute e quindi io faccio finta che siano testimonianze vere e siccome queste testimonianze ci provengono da popoli appartenenti a culture diverse continenti diversi epoche diverse beh io direi che fare finta che sia vero è quanto meno lecito io ripeto ripeto il segreto è sempre avere la mente aperta altrimenti si esce da un dogmatismo e si entra in altri dogmatismi e allora la situazione non cambia invece con la mente aperta si possono ricevere delle informazioni che poi speriamo in futuro diventino certezze che al momento appaiono essere quantomeno non attese o fantasiose ma forse fantasiose non sono chi era davvero l'angelo sterminatore dell'esodo sì allora bisogna tenere presente una cosa che un conto è purtroppo la Bibbia come è stata scritta in origine che non possediamo più altro conto è la Bibbia così come è stata riscritta soprattutto durante ma soprattutto dopo il periodo dell'esilio babilonese quando il sacerdozio di Gerusalemme che ha preso in mano tutto e ha esautorato ogni potere laico ha fatto sì che Yahweh diventasse prima il più importante e poi per quanto possibile addirittura l'unico degli Elohim e quindi è chiaro che a lui è stato attribuito tutto cioè ogni azione condotta nel passato è stata attribuita ovviamente a Yahweh quindi il discorso delle piaghe d'Egitto che sta all'interno del quale ci sta anche il discorso dei primogeniti è un discorso che ha una spiegazione assolutamente storica assolutamente naturale direi di ordine appunto geologico e poi climatico anche perché tutto il discorso delle piaghe d'Egitto compreso la morte selettiva di alcuni individui si è ripetuto esattamente l'ho spiegato nelle primissime conferenze facendo vedere anche diapositive si è ripetuto nel 1982 poi nel 1984 in Camerun dove appunto c'è stata la successione delle piaghe esattamente come quelle descritte dalla Bibbia questo è avvenuto in quel lago e negli abitanti che stavano attorno a quel lago compresa la morte selettiva di individui cosa che nella Bibbia è diventata la morte selettiva diciamo dei primogeniti quindi tutto questo ha una spiegazione di ordine naturale e ovviamente nel tentativo di rendere grande di rendere importante Yahweh gli hanno attribuito tutto Mauro perché consiglieresti a qualcuno di iscriversi al nostro canale? perché state state facendo un ottimo lavoro sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista della divulgazione quindi direi che vale la pena di seguire le cose che fate quindi il modo cioè i contenuti che trattate il modo in cui li trattate e la capacità che avete di divulgarlo Mauro grazie ancora dell'intervista che ci hai concesso e speriamo di averti ancora ospite in futuro nel nostro canale grazie a voi se questa intervista vi è piaciuta come speriamo mettete un like e soprattutto lasciate un commento condividete anche la puntata in modo da farla conoscere a più persone possibili e se vi piace iscrivetevi anche nel nostro canale di Facebook vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova storia e un nuovo mistero un saluto da Mr. Lawrence grazie a tutti Grazie a tutti.